Grazie a tutti. 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 Ancora droga questa volta a Frosinone. I carabinieri hanno stanato un vero e proprio laboratorio della droga nei pressi della stazione ferroviaria. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Elettra Cimonte. Perquisizione e sequestri di sostanza stupefacente nella nota piazza dello spaccio di Via Bellini. La squadra mobile e la squadra a volante, con l'ausilio delle unità cinofile antidroga, hanno stanato, in una zona condominiale adibita ad allevamento di canarini, della cocaina abilmente occultata, in un altro condominio dell'ascis nascosto dietro un finto battiscopa ed infine un laboratorio accessoriato per il confezionamento di dosi. L'appartamento apparentemente risulta disabitato. Il bottino sequestrato è di oltre 60 grammi. Denunciato anche un giovane del luogo per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale. Ancora cronaca, tre arresti dei carabinieri tra Frosinone e Strangola Galli tra la notte scorsa e questa mattina. Avvero, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Matteo D'Aversa, 27enne Frosinate, già censito per lo stesso reato. Il giovane è stato sorpreso dai militari nei pressi dell'abitazione di un nuoto pregiudicato del luogo, insieme ad altre due persone. I carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale il 27enne ed hanno rinvenuto un astuccio cilindrico in plastica con all'interno 20 involucri in cellofan contenenti 4 grammi di crack. Gli stessi carabinieri, in una successiva perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto altri 13 grammi di cocaina, tre bilancini elettronici di precisione, materiale da taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. Sempre i carabinieri, stavolta Strangola Galli, hanno proceduto a notificare un ordine di custodia cautelare a Giovanni Battista Sementilli, 27enne del luogo. Il giovane si era messo nei guai nel settembre scorso, trovato in possesso di un centinaio di dosi di cocaina nel capoluogo Ciociaro dai carabinieri della compagnia di Frosinone. Per quei reati era scattato l'arresto e il successivo obbligo di dimora in Strangola Galli, con il divieto di uscire dall'abitazione nelle ore notturni, divieto che il giovane ha violato più volte. Nella giornata di ieri il GIP del Tribunale di Frosinone ha disposto gli arresti domiciliari. A Frosinone i militari della stazione dello Scalo hanno arrestato Christian Favoriti, 29enne del capoluogo, per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Per questa violazione l'arrestato, pregiudicato per i reati contro il patrimonio e reati di oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale, dovrà scontare una pena residua di sei mesi di reclusione. Il 29enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Frosinone. Passiamo ad altre notizie. Ieri c'è stato l'arrivo dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi in Ciociaria. Con il suo treno elettorale, Matteo Renzi, attuale segretario nazionale del Partito Democratico, è arrivato a Ferentino dove ha parlato soprattutto di Fiat Chrysler. Vediamo i dettagli nel servizio curato da Cinzia Cerroni. Il segretario nazionale del Partito Democratico ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha fatto tappa ieri in Ciociaria nell'ambito del suo tour elettorale Destinazione Italia. È sceso alla stazione di Ferentino per poi proseguire verso il nuovo stadio Benito Stirpe. C'è bisogno di rilanciare l'azione politica e la presenza sui territori, toccando dal vivo quelle che sono le maggiori criticità, una su tutto il lavoro. Tenuti a distanza però i lavoratori di vertenza frusinate, dietro le transenne dello stadio, Renzi si è soffermato con i giornalisti a parlare dei lavoratori interinali FCIAI, ai quali non è stato rinnovato il contratto. Grande Matteo! Io ho visitato la fabbrica un anno e mezzo fa più o meno, come ho visitato altre fabbriche di Fiat, a cominciare Fiat Chrysler, a cominciare da Melfi, e ho preso atto di una cosa molto buona, molto bella, cioè che quelle fabbriche che sembravano destinate alla chiusura sono fabbriche che invece sono ripartite. Io penso e spero che grazie alla sensibilità di Fiat Chrysler, a cominciare dal dottor Marchionne e del governo, a cominciare dal vice ministro Teresa Bellanova, noi si possa fare tutto quanto è necessario per dare anche a questi ragazzi una prospettiva di sviluppo. Noi abbiamo fatto in questi tre anni 987 mila posti di lavoro in più, una parte nel settore dell'automotive, poi la cosa importante a Cassino è che c'è tutto l'indotto, cioè per ogni posto di lavoro che aumenta in Fiat c'è un posto di lavoro che cresce al di fuori dell'universo Fiat, ma collegato con l'indotto al settore dell'automotive e non solo. Dunque noi siamo totalmente a fianco dei lavoratori perché si possa costruire un'operazione seria, sperando naturalmente che le vendite dell'Alfa vadano meglio. Noi siamo dalla parte dei lavoratori perché dopo che si era zero ore in cassa integrazione per 4.000 persone, che queste 4.000 persone sono tornate, dopo che 800 persone hanno fatto affidamento sul primo contratto, quello interinale, per poter avere un futuro, il compito delle istituzioni è fare il tifo, lavorare, spingere. Siamo in questo giro di ascolto in tutta Italia oggi nel Frosinate, siamo in una delle realtà che ha, l'abbiamo visto con i parlamentari, i deputati, i consiglieri regionali, sul viaggio in treno, un tasso di disoccupazione rispetto al resto del Lazio più alto, però è fuori, essendo ancora nel Lazio, da aree di possibili incentivi legati al decreto unozogiorno e non solo. Quindi è una zona dove dobbiamo investire molto. E dopo l'arrivo alla stazione ferroviaria di Ferentino, Matteo Renzi si è spostato nel capoluogo, dove ha fatto visita allo stadio Benito Stirpe, definendolo un esempio per il territorio. Vediamo i dettagli nel servizio. Il Frosinone e gli scopi che si prefigge la società presieduta da Maurizio Stirpe debbono essere un esempio per l'intero territorio. Sono state le prime parole del leader del PD, Matteo Renzi, che ha visitato lo stadio Benito Stirpe, accolto dal presidente del club giallazzurro, con il quale si è soffermato in una lunga chiacchierata lungo il percorso che lo ha portato nella pancia dello stadio dove l'ex premier ha visitato gli spogliatoi e gli uffici per poi spostarsi sul campo da gioco, dove è stato omaggiato di un pallone e di una maglietta ufficiale. Il presidente Stirpe ha spiegato a Renzi il suo approccio al calcio, la passione e l'entusiasmo di una città arrivata a toccare la Serie A e che vive in simbiosi con la squadra. Ed ha raccontato che grazie all'impegno fattivo tra pubblico e privato quel gioiello di architettura sotto gli occhi fino ad un anno prima era solo un campo di allenamento del Frosinone. Quello che ha fatto Stirpe qui a Frosinone secondo me è molto interessante. Questo è la casa del tifoso, c'è un investimento sugli aspetti infrastrutturali, la qualità del campo, la qualità delle tribune, i 16.200 posti, ma c'è anche tutto un percorso dietro, il crowdfunding per i tifosi, la possibilità di fare di questa struttura un luogo per le famiglie, il fatto che accanto a 7.000 abbonati ci siano spesso mamme e papà che portano i figli allo stadio, insomma il lato bello del calcio. E quindi complimenti al Frosinone, complimenti alla famiglia Stirpe, è un grande, grande, grande in bocca al lupo. Quando ho appreso che aveva piacere di visitare la struttura è stata una cosa che ho accolto molto volentieri perché dimostra come tutte le cose in cui c'è interesse verso il nostro territorio sono cose che noi dobbiamo stimolare, anzi le dobbiamo moltiplicare da qualunque parte esse possano provenire. A dare il benvenuto a Renzi il presidente della provincia e sindaco di Ferentino Antonio Pompeo e tutti i big del PD locale. E' una grande soddisfazione del PD ma anche una grande soddisfazione per l'intero territorio della nostra provincia, per le due città che oggi ha toccato. La città di Ferentino dove ha potuto apprezzare i lavori che si stanno facendo per la riqualificazione della stazione. E' una soddisfazione come sindaco, come cittadino, doveva essere riuscito a far inserire la nostra stazione che da tantissimi anni era in uno stato di completo abbandono tra le 500 stazioni in tutta Italia il target che RFI sta seguendo per riqualificare. Noi spesso raccontiamo questa provincia solo partendo dalle cose che non vanno e ce ne sono molte di cose che non vanno. Però la nostra provincia in questi ultimi anni ha dato anche esempio di tante cose importanti che hanno funzionato. C'è comunque una ripresa in atto nel settore farmaceutico, nel settore dell'automotive. C'è una buona ripresa anche nel settore della logistica. Ad accogliere nel nuovo stadio Stirpels, Gettario Renzi, anche il sindaco del capoluogo Nicola Ottaviani che al termine della sua visita gli ha consegnato un dossier contenente la rassegna stampa con le dichiarazioni di alcuni rappresentanti del Partito Democratico contrari proprio alla realizzazione della struttura. Al primo cittadino segue la replica del deputato Pilozzi. Si concentri sui problemi altri del capoluogo. Sentiamo. Il pubblico come comune ha iniziato la costruzione dello stadio dopo aver effettuato circa il 40% della costruzione e lo ha passato di mano al privato che è in grado di gestirlo per 45 anni. Quindi questo è uno stadio che rimane di proprietà comunale ma viene gestito giustamente da chi sa fare sport, da chi sa fare management anche a livello di gestione del settore sportivo e quindi ognuno deve saper fare quello che sa fare normalmente. Renzi è venuto qui per dare omaggio a Stirpe, al grande lavoro fatto dal Frosinone Calcio, a questo grande risultato che è un risultato del Frosinone e di tutti i cittadini di Frosinone. Non credo che sia il caso nessuno di noi di entrare in nessun tipo di polemiche. Credo invece che veramente dobbiamo tutti insieme valorizzare quello che abbiamo ed è chiaro che poi quando costruiamo, quando realizziamo, ognuno di noi ha le proprie idee ma l'importante poi alla fine è fare le cose e farle fatte bene. E passiamo ora alla linea alla redazione di Segnale News con Elettra Cimonte. Benvenuti a Segnale News, compleanno straordinario festeggiato a Piglio con il sindaco Mario Felli che ha personalmente fatto gli auguri a nome di tutta la cittadinanza alla signora Elena Lucidi. Una donna elegante, la signora Elena, dai modi gentili e perfettamente lucida che ha compiuto ben 106 anni e non è la prima centenaria che festeggia a Piglio. Deve essere l'area buona del nord della ciociaria o i prodotti genuini. Sta di fatto, che a quanto pare, qui si vive a lungo eppure bene. Cori Insieme è il titolo della prima rassegna corale nata dalla comunanza di intenti di sette cori della provincia di Frosinone e che si propone, oltre alla diffusione dei valori universali del linguaggio musicale, due obiettivi particolari. Offrire alla popolazione del territorio un percorso di conoscenza della musica corale in luoghi significativi per arte e storia e realizzare una rete provinciale tra cori volti alla diffusione, alla pratica e all'innalzamento della qualità dell'offerta musicale e corale. Un appuntamento particolarmente atteso in programma domenica 26 novembre con inizio alle ore 16 presso la chiesa di Santa Salomè. Parteciperanno alla rassegna il coro Gaudete Indomino di Veruli diretto dal maestro Luigi Mastracci e il coro polifonico Voci sparse di Sora diretto dal maestro Giacomo Cellucci. Luci e colori della montagna domenica 26 novembre ad Alatri alle ore 16 presso il palazzo Conti Gentili verrà inaugurata una mostra fotografica collettiva di Massimiliano Camozza Duilio Cipitelli, Mariella Fanfarillo, Simona Farina, Gian Bruno Macotta, a cura di Carmine Malandrucco e Alessandro Liggi. Grazie per l'attenzione arrivederci al prossimo appuntamento. Cambiamo l'argomento passiamo alla Valle del Sacco con le rassicurazioni di ASL e col diretti sulla salubrità dei nostri prodotti. I controlli serrati e costanti si legge in una nota dell'ASL dimostrano che il livello di sicurezza alimentare di questa provincia è particolarmente elevato. Infatti a partire dall'esplosione della problematica Valle del Sacco del 2005 sono iniziati in accordo con la Regione Lazio controlli mirati alla ricerca di beta-esacloro-cicloesane e di diossina. Nel primo quinquennio sono stati effettuati 2.264 accertamenti con 120 positività fino ad arrivare all'ultimo triennio con oltre 800 accertamenti e 2 sole positività poco più del 2 per 1000 a confermarlo anche la col diretti con una nota del suo presidente Vinicio Savone La Valle del Sacco ha sottolineato è probabilmente il territorio italiano più controllato dalle autorità sanitarie pubbliche basterebbe questo per rassicurare i cittadini sulla salubrità dei prodotti delle aziende agricole e degli allevamenti sopravvissuti alla decimazione seguita alla ufficializzazione dello stato di emergenza ambientale Savone stigmatizza il ripetersi di allarmismi che rischiano di pregiudicare la riuscita del faticoso cammino intrapreso da agricoltori e allivatori della Valle del Sacco per tornare alla normalità e lasciarsi definitivamente alle spalle un'emergenza che come certificato dagli esiti delle analisi eseguite dalle autorità sanitarie era mai abbondantemente superata e su Radio Cassino Stereo è stato ospite questa mattina all'interno della rubrica diritto di parola Carmine Di Mambro da molti definiti il consigliere coraggio di Cassino dopo essere stato in prima fila per l'istituzione di un registro dei tumori nel Lazio adesso ha avviato un'altra importante battaglia volta alla creazione di un fondo di sussidio per i malati oncologici vediamo un estratto dell'intervista per quanto riguarda poi la proposta di legge stiamo alzando un po' l'asticella nel senso che è una proposta di legge che si chiama fondo di sussidio ai pazienti oncologici e trapiantati è una semplice proposta di legge che serve più che altro ad assistere i pazienti malati di tumore o in attesa di trapianto con un sussidio economico e tutti possono partecipare cioè voi vi rivolgerete che ne so all'amministrazione comunale ai direttori sanitari come funzionerà? questa sarà una proposta di legge regionale che è approvata dalla regione Lazio e che sarà gestita dalle commissioni delle ASL bene e quindi lei non ritiene sufficienti le tutele previste attualmente proprio dalle leggi e dal codice civile a favorire i malati in questo caso di tumore quindi oncologici? stiamo parlando della malattia detta la malattia del ventunesimo secolo queste sono normative un po' chiamiamole obosolete tra virgolette diciamo che le normative sono pure abbastanza tutelanti nei confronti dei lavoratori ma non in tutte anche perché i malati oncologici hanno bisogno di un di un tempo abbastanza lungo che va oltre il comporto di malattia quindi praticamente molte persone si ritrovano a superare i famosi 365 giorni in tre anni e a trovarsi in alcuni casi addirittura licenziati perché le piccole aziende i piccoli imprenditori ho conosciuto persone che sono state licenziate perché hanno superato quel comporto e il datore di lavoro non riteneva opportuno più mantenerle o persone che comunque lavorano in grandi aziende o in altri anche pubblici che al termine del comporto di malattia devono soffrire dell'aspettativa zero l'aspettativa zero significa che non avranno entrate per 12 mesi quindi diciamo che questa proposta di legge è rivolta alle persone che vengono licenziate e persone che vanno in aspettativa a zero ore quali sono le attività che porterete avanti con quali tempi per centrare questo obiettivo e soprattutto quali sono gli alleati istituzionali indispensabili guardi a breve vi era fatto una conferenza stampa per spiegare al meglio tecnicamente che cosa è questa proposta di legge logicamente è una proposta di legge regionale quindi sarà rivolta alla regione Lazio quindi il supporto istituzionale dovrà venire soltanto dalla regione Lazio è l'asle che poi dovrà in qualche modo aiutare la regione con un'apposita commissione quindi là bisognerà presentare questa proposta di legge è una proposta di legge regionale quindi verrà presentata in consiglio regionale e dovrà essere approvata quindi la regione Lazio sarà l'unica istituzione che in qualche modo potrà darci il verdetto finale per questa proposta di legge per questa istituzione di questo fondo e speriamo che passi pochissimo tempo assolutamente assolutamente anche perché a breve verrà discusso del bilancio quindi speriamo che rientri nel bilancio della commissione sanitaria è una storia drammatica di maltrattamenti in famiglia appena arrivata in redazione proprio nella settimana in cui si celebra la giornata della violenza contro le donne ancora una minacce di morte violenze fisiche psicologiche questa storia arriva da Cassino una giovane mamma ha denunciato le continue vessazioni alla polizia una giovane vittima dell'ex compagno che non si è rassegnato alla fine della relazione e anche dell'ex suocera complice insieme al figlio di atti aggressivi nei confronti della donna entrambi madre settantenne figlio di 36 dovranno ora rispondere di maltrattamenti in famiglia atti persecutori minacce di morte in concorso e cambiamo totalmente argomento con la cultura è Gabriele Cosmi il vincitore del premio Sinopoli verrà premiato a Frosinone il prossimo 15 dicembre nel corso di un concerto presso il conservatorio Licini Orefice vediamo i dettagli nel servizio è Gabriele Cosmi con un'opera per orchestra d'archi il vincitore della prima edizione del concorso nazionale di composizione Giuseppe Sinopoli ideato dall'orchestra da camera di Frosinone come riconoscimento verso una grande personalità della musica del novecento italiano ed europeo il concorso è stato sostenuto dal Rotary Club di Frosinone e dal conservatorio di musica Licini Orefice è proprio nei locali dell'università della musica di Frosinone che si è tenuta la commissione presieduta da Ivan Fedele attualmente direttore artistico della Biennale di Musica di Venezia insieme a lui hanno lavorato Marcello Panni compositore direttore d'orchestra Alberto Giraldi direttore del conservatorio Frosinate Luca Salvadori professore di composizione presso il medesimo istituto e il direttore d'orchestra Francesco Belli Gabriele Cosmi giovanissimo compositore di Oristano ha appena 29 anni ha studiato al conservatorio di musica di Milano si è perfezionato presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e ha già avuto importanti riconoscimenti tra questi il premio Goffredo Petrassi conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale miglior giovane compositore per l'anno 2015 la commissione giudicatrice ha pure conferito una menzione di merito al compositore Sabino De Bari pugliese ma residente a Londra che si è formato nel conservatorio di Frosinone l'opera vincitrice sarà presentata al pubblico il prossimo 15 dicembre alle ore 18 presso l'auditorium Daniele Paris del conservatorio di Frosinone l'esecuzione sarà realizzata dall'orchestra da camera di Frosinone diretta da Francesco Belli e passiamo ora la linea alle notizie di sport è emergenza infortuni per mister Longo in vista della partita che il Frosinone disputerà domani sera ad Empoli vediamo tutti i dettagli nel servizio di Alessandro Lunghi altro sfortunato infortunio in casa Frosinone non ha preso parte alla seduta di allenamento della mattina Emanuele Terranova il difensore è stato sottoposto a risonanza magnetica la quale ha evidenziato una lesione di primo grado alligamento astragalico peroneale anteriore della caviglia destra previsti per lui circa 20 giorni di stop assenza che dunque costringerà l'allenatore Longo a schierare un terzetto difensivo obbligato con Craic Ariaud e Brighenti una coperta un po' troppo corta alla luce degli altri molti infortuni capitati alla squadra Ciociara alla vigilia di una sfida determinante del campionato contro una diretta concorrente per la Serie A Vediamo ora il punto sul basket in particolare sulla Serie D per le squadre di Anagni Sora e Cassino Continua il percorso netto della fortitud Anagni nel girone A di Serie D nuovamente sconfitte invece Cassino e Sora i papalini proseguono senza sosta la loro marcia in vetta riuscendo ad avere ragione anche di Fiumicino la fortitudo deve sudare molto più che nelle gare precedenti ma prevale con un grande quarto periodo grazie alla difesa e alle giocate di Santucci e Capotorto nonostante l'assenza di Ruggeri e Pasqualoni avesse raccorciato le rotazioni cade invece ancora la pala Canestro Sora che gioca un eccellente primo tempo contro la quotata Cavese ma crolla nella ripresa quando le forze vengono meno dopo l'intervallo gli ospiti sorpassano e scappano via appoggiandosi soprattutto a Cara e Leoni male invece la lungo e pagano Cassino annichilita fin dal primo quarto dal palocco i biancorossi tentano un paio di volte di rifarsi sotto ma è troppo poco per recuperare il meno 19 con cui si è aperta la gara specialmente in una serata in cui De Santi e Siamoruso giocano ben al di sotto dei loro standard e per l'informazione di oggi è tutto grazie per la vostra attenzione arrivederci al prossimo appuntamento